Nella seconda Alta Bore, Simone Formaggio, la terza per Fuga Bionda, andiamo a vedere come si presenta dalla prima curva, Minidoletti, Alta Bore all'esterno, partiva dall'ultima posizione con un rettilineo a manetta, ma tutto esterno, dato l'incrozzare le linee, si è portato subito nelle prime posizioni, qua partiva dalla prima fila, Minidoletti è riuscito a mantenere la prima posizione, andiamo a vedere alla staccata del tornante della quattro, riesce Minidoletti a tenere la corda, sta diventando in corda, la pista piuttosto avallata, piuttosto scottessa nella parte centrale. Intanto per noi dal passaggio a tre, notevolissimo, e sul traguardo, Minidoletti Serini, Minidoletti Serini, e con il numero posto Ruga che in effetti ci veniva dato dagli esperti con una vettura altamente performante, così è infatti. Intanto la 3A manca ancora dalla Fregrini, comincia ad arrivare adesso, vediamo.